Sono Vitaliano Scardigno di Unica Costruzioni, rappresento un'impresa edile che propone la realizzazione di edifici di alta qualità con un sistema costruttivo proprio. Si tratta di un sistema industrializzato che contiene la realizzazione di muri portanti e solette piene interamente in calcestruzzo armato. Ci sono casseforme che contengono non solo il calcestruzzo ma anche l'isolamento termico, gli impianti, le colonne di scarico, tutto realizzato con nostre maestranze. Alla parete disarmata resta solamente da realizzare una rasatura interna e una rasatura esterna. In questo modo abbiamo eliminato le opere murarie degli impianti, cioè non si demolisce più il muro appena costruito per poter collocare poi le tubazioni, ma in realtà le tubazioni sono già collocate dentro la cassaforma prima di procedere dal getto del calcestruzzo. È un edificio di alta qualità ed è composto praticamente da due prodotti, calcestruzzo armato ed EPS. Abbiamo puntato molto sulla semplificazione, sulla formazione delle maestranze e sull'industrializzazione dei processi.